Gesso eroico di due carabinieri in servizio a Isernia che questa mattina hanno salvato la vita di un minore che si stava buttando giù dal ponte Cardarelli. Continua a crescere la coalizione che sostiene il candidato presidente del centrodestra Roberti oltre a una sua lista arriva anche l'appoggio della DC e Gravina perde Molise e Solidale. Comune di Venafro è cruciale per la definizione della nuova giunta, entro pochi giorni i nomi dei cinque assessori scelti dal riconfermato Ricci. Isernia in festa per il santo patrono San Pietro Celestino, ricco il programma religioso e civile e numerose le presenze al centro storico. Intervista all'attore e azionista Consuelos, il Campobasso 1919 finisce sulla famosa rivista americana Forbes, intanto sottoscritta alla Convenzione per l'utilizzo del Selvapiano. Questi i titoli dell'edizione di oggi del nostro telegiornale Bentrovati. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 1 della legge regionale del Molise numero 13 del 2022 relativa alla stabilizzazione del personale sanitario precario. I giudici hanno infatti dichiarato in costituzionale la parte in cui si fa riferimento alla possibilità che la procedura di stabilizzazione possa avvenire anche in deroga, anziché in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale, della parte in cui consente la stabilizzazione di personale anche al personale contrattualizzato a qualunque titolo, anziché del personale che sia stato reclutato con contratti a tempo determinato, diverso da quello sanitario e socio sanitario. Abuso d'ufficio per la nomina di Nico Romagnuolo al vertice del consorzio industriale di Boiano. Con questa accusa compariranno davanti al GUP del Tribunale di Campobasso il prossimo 6 settembre il presidente della regione Donato Toma e altri sei assessori o ex assessori della sua giunta. Parliamo di Vincenzo Cotugno, Nicola Cavaliere, Quintino Pallante, Michele Marone, Vincenzo Niro e Filomena Calenda. Insieme a loro rischia il processo per abuso d'ufficio anche l'ex consigliere regionale Nico Romagnuolo. È stata la sostituta Viviana Di Palma che in chiusura delle indagini preliminari ha chiesto appunto il rinvio a giudizio. Gesto eroico di due carabinieri in servizio a Isernia che questa mattina hanno salvato la vita di un minore che si stava buttando giù dal ponte Cardarelli. I dettagli nel servizio di Antonio Leone. Gli hanno salvato la vita quando ormai sembrava troppo tardi e ancora vivo solo grazie al coraggio di due carabinieri che lo hanno bloccato poco prima di fare un volo di circa 60 metri. Un vero e proprio atto eroico quello che ha visto protagonisti stamattina due carabinieri del comando provinciale di Isernia. L'episodio vicino all'ospedale a dare l'allarme un passante che ha visto un ragazzo non ancora maggiorenne a girarsi con fare sospetto sul ponte Cardarelli chiamato il ponte dei suicidi perché già teatro di altri gesti estremi. Immediato l'intervento di una pattuglia dei militari dell'arma. Alcuni presenti che hanno assistito alla scena ci hanno riferito che il giovane all'arrivo dei carabinieri aveva già scavalcato le barriere di protezione e deciso a farla finita. Una corsa contro il tempo quella dei due militari mentre uno gli ha afferrato la caviglia l'altro ha oltrepassato il parapetto riuscendo a bloccarlo e poi a metterlo in sicurezza. Un grande sospiro di sollievo per i due carabinieri e per i tanti che in quel momento si trovavano in prossimità del ponte. Tragedia sventata al di là della brutta storia che purtroppo ha visto protagonista un giovanissimo ancora una volta da rimarcare il coraggio dei due carabinieri sprezzanti del pericolo non ci hanno pensato due volte a mettere a rischio la loro vita per salvarne un'altra. Asrem Antonio Lastoria resta al suo posto di direttore amministrativo dell'Asrem. La richiesta di conferma era stata avanzata dalla stessa commissaria Evelina Gollo che l'aveva trasmessa al presidente Donato Toma nella sua qualità di commissario governativo alla sanità regionale. Dopo il via libera di Toma il parere positivo della vocatura regionale Evelina Gollo ha così firmato il provvedimento che conferma l'incarico di Antonio Lastoria come direttore amministrativo dell'azienda sanitaria regionale del Molise. La Gollo ha anche nominato il nuovo direttore sanitario dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Si tratta di Dino Sassi che lascia l'incarico di direttore del Veneziale. E continua a crescere la coalizione che sostiene Francesco Roberti candidato presidente del centrodestra. Avrà una sua lista del governatore ed arriva anche la lista della democrazia cristiana. Intanto mentre Roberti si rafforza Gravina invece si indebolisce perdendo la lista di Molise solidale. Il servizio è del direttore Enzo Di Gaetano. Giorno dopo giorno il centrodestra si rafforza e sembra davvero improbabile se non impossibile che Grillini e PD possano arginare l'alta marea di un avversario che continua ad ingrossare le proprie fila. Gravina continua a perdere pezzi, i pezzi di un puzzle che non riesce a comporre. Ieri in un lambo è sparita la famosa quinta lista Molise solidale che se l'è data a gambe comunicando la sua non adesione al progetto del centrosinistra. Intanto nel centrodestra aumentano le adesioni dopo la conferma della presentazione della lista UDC. Arriva la notizia della possibile presenza di una lista DC e ieri infine a Esernia è stato siglato un trattato che blinda la coalizione. L'ex presidente Michele Orio infatti dopo la delusione della mancata candidatura a governatore ha rinunciato all'idea di un terzo polo e si è alleato con Francesco Roberti firmando un patto d'acciaio che blinda la vittoria annunciata del centrodestra. Dicevamo della democrazia cristiana potrebbe essere la lista numero 8 del centrodestra e da il volto della ex ministra grillina della difesa Elisabetta Trenta. Il test fatto dal nostro partito nelle ultime elezioni amministrative si legge in una nota a circa due mesi dal congresso ha definito un risultato di assoluto buono auspicio. A San Felice a Cancello comune dell'Interland casertano con molteplici complesse priorità da affrontare la democrazia cristiana ha presentato la sua lista a sostegno del candidato Emilio Nuzzo il quale con circa il 35 per cento dei consensi è risultato il candidato sindaco più votato tra quelli in competizione e andrà al ballottaggio che avrà luogo tra due settimane. Questa la dichiarazione di Fabio Desideri portavoce e coordinatore politico nazionale della democrazia cristiana che unico partito a sostenere insieme ad altre liste civiche il candidato sindaco Nuzzo ha ottenuto un lussinghiero 4 per cento di suffraggi degli elettori del comune della provincia di Caserta. Un testo complesso e difficile quello di San Felice a Cancello che il partito ha scelto di fare per tanti motivi non ultimo quello di tornare a riportare su una scheda elettorale il simbolo dello scudo crociato vero ed originale della democrazia cristiana. Ripartendo da questo test dice Desideri stiamo valutando quali scelte politiche fare in occasione delle prossime elezioni regionali del Molise, questione prioritaria cui l'ex ministro Elisabetta Trenta oggi iscritta alla democrazia cristiana e delegata ai rapporti con il Parlamento del partito insieme al nostro segretario Antonio Cirillo sta dedicando particolare attenzione per offrire verificate tutte le condizioni la migliore nostra proposta agli elettori della regione Molise in vista del voto. Una delegazione del comitato salviamo la radioterapia in Molise ha consegnato ieri agli uffici del ministero della salute i moduli con cui oltre 16 mila cittadini hanno sottoscritto la petizione salviamo la radioterapia in Molise chiedendo al governo di adottare tutti gli atti necessari affinché il riparto delle gemelli possa continuare ad offrire alla popolazione prestazioni sanitarie d'eccellenza. Isernia in festa per il santo patrono San Pietro Celestino ricco il programma religioso e civile numerose le presenze al centro storico Antonio Leone. Oggi Isernia festeggia il suo santo patrono ci troviamo davanti alla chiesa San Pietro Celestino qui nel centro storico del capoluogo Pentro molto ricco il programma sia religioso che civile innanzitutto in questo momento qui all'interno della chiesa è in atto la santa messa ma poi c'è anche la fiera tante le i commercianti le bancarelle che si trovano qui al centro storico e molto buona anche l'affluenza degli Isernini nonostante il cattivo tempo. Isernia sì è vero questa è una tradizione che si deve portare sempre avanti non dobbiamo perdere l'occasione per la festa di San Pietro abbiamo pensato di fare questo qua sì 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 insomma è molto 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 legato è il protettore di Isernia è il nostro padrono. La festa che sono Isernini insomma e vengo sempre qua quando ogni anno quasi. Forse prima era sentita un po' di più? Forse un po' di più le cose vanno sempre un po' scemando non so perché poi magari i veri Isernini ce ne stanno anche di meno allora questi che arrivano la loro tradizione non lo so insomma. Dovremmo oggi il santo padrono di Isernia San Pietro Celestino un momento importante per la cittadinanza soprattutto da un punto di vista religioso visto che comunque c'è un forte legame con questo santo. Certamente tutta la città di Isernia è in festa per il suo padrono ed è una figura di santo importante anche per chi compie un cammino di fede perché è un modello da imitare di fatti la chiesa eleva gli onori degli altari i santi proprio proponendoli come modelli di vita cristiana. L'esempio che San Pietro Celestino può darci è sicuramente quello della benegazione e della dedizione alla chiesa. San Pietro Celestino è anche per noi esempio di umiltà perché riesce ad un certo punto dopo essere stato eletto pontefice a rinunciare al pontificato perché voleva continuare a dedicarsi alla preghiera al Signore. E in attesa della processione che porterà il busto di San Pietro Celestino su in cattedrale abbiamo chiesto al demologo Mauro Gioielli informazioni sulla vita del santo e Mauro Gioielli ci ha dato anche alcuni particolari molto molto interessanti. Uno dei papi più discussi della storia della chiesa proprio per la rinuncia, famosa rinuncia al papato anche se poi anche altri papi hanno fatto lo stesso. C'è una ricchissima bibliografia su di lui, quindi un santo molto studiato anche perché in un'epoca particolare. È nato, sull'anno di nascita ci sono delle incertezze ma grosso modo dovrebbe essere nel 1215 e poi è morto nel 1296, quindi ha attraversato un intero secolo. Gominata dai carabinieri una banda pugliese dedita ai furti d'auto nell'ambito dell'operazione denominata uscita 762. Arrestate 5 persone in provincia di Ancona ritenute responsabili di 38 episodi di furto d'auto. La banda aveva messo a segno dei colpi anche in Molise due anni fa, in particolare nella provincia di Campobasso. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, è giunta a conclusione dopo 7 mesi di indagini. L'asilo nido di Via Verga a Campobasso era stato chiuso perché presentava gravi carenze strutturali. Ora l'approvazione definitiva del progetto di demolizione e ricostruzione per un importo di 1 milione e 800 mila euro. Ce ne parla Francesco Adamo. Ne avevamo parlato nelle scorse settimane del progetto di riqualificazione dell'asilo nido di Via Verga. La notizia è l'approvazione definitiva del progetto di demolizione e ricostruzione. Il nuovo edificio sarà edificato negli stessi spazi, manterrà le stesse finalità funzionali e sarà ricostruito nella stessa area dell'attuale edificio con alcuni importanti miglioramenti, in particolare l'aumento degli standard di sicurezza. L'edificio era stato chiuso perché presentava gravi carenze strutturali che mettevano a rischio la sicurezza della struttura. 1 milione e 800 mila euro l'importo totale assegnato al plesso. La nuova scuola sarà divisa in due blocchi. Uno destinato ai lattanti e idoni a ospitare i 12 piccoli, mentre il blocco B consentirà di ospitare altri 38 bambini. L'asilo nido ha ospitato finora una settantina di bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni. Le attività degli attuali piccoli alunni dell'istituto saranno spostate con molta probabilità all'istituto comprensivo Igino Petrone. Al termine dei lavori i bambini rientreranno nel nuovo plesso comunale. E col direttimo Lise esprime la massima solidarietà alle popolazioni dell'Emilia Romagna, colpite dalla violenta alluvione dei giorni scorsi e mette in guardia dai pericoli che anche il Molise corre. La devastante alluvione che ha colpito gran parte dell'Emilia Romagna, afferma il presidente regionale di Coldiretti Molise Claudio Papa, riaccende i riflettori sui rischi derivanti da eventi meteo estremi che si verificano sempre più di frequente. La tutela del territorio a tutto tondo, conclude Papa, sarà il vero banco di prova per coloro che saranno chiamati a governare la nostra regione. E al comune di Venafro ore cruciali in vista della definizione della nuova giunta. I nomi dei cinque assessori scelti dal sindaco riconfermato Ricci entro l'inizio della prossima settimana. Ce ne parla Domenico Marzocchella. Fase cruciale al comune di Venafro. Aperte le urne e proclamati 16 consiglieri, il prossimo step è quello della giunta. In queste ore il sindaco riconfermato Ricci sta lavorando alla definizione dei cinque componenti della squadra, che avrà l'onore e l'onere di amministrare la città per i prossimi cinque anni. Lo abbiamo detto in un precedente servizio. Il primo cittadino, nell'intento di motivare ed impegnare tutti, evitando mal di pancia alla lunga, potenzialmente pericolosi per la tenuta della sua maggioranza, conferirà incarichi a ciascuno degli undici consiglieri. Innegabile però che le cinque deleghe, tra e senza virgolette con portafoglio, quelle assessorili, siano particolarmente ambite. In questa fase, che all'inizio abbiamo definito cruciale per un motivo in più, le ingenti risorse del PNRR in arrivo consentiranno agli assessori, con l'indirizzo del sindaco, chiamati a trasformarle in opere e infrastrutture, di lasciare un segno tangibile nel miglioramento della città. Che i cittadini associino, oltre che a quello del primo cittadino, il nome dell'assessore di turno, al restyling materiale o in termini di nuovi servizi attivati a Venafro, comprensibilmente sarà motivo di orgoglio per gli amministratori interessati. Ma chi sceglierà Ricci? Nel corso e a caldo dopo la campagna, il sindaco ha fatto sapere di voler assecondare la volontà espressa dal cittadino elettore nell'urna. Il criterio porta all'assegnazione delle deleghe ai primi cinque eletti, con il sesto chiamato all'incarico istituzionale di presidente dell'assise di Palazzo Cimorelli. In quel caso e nell'ordine Marco Valvona, Angela Maria Tommasone, Marina Perna, Oscar Simeone, Antonella Cernera e Dario Ottaviano, i prescelti, tutte figure rodate da una pregressa esperienza amministrativa a Palazzo Cimorelli da almeno una consigliatura. Al momento però la lista di Ricci non è ancora stata stilata. Di fretta non ce n'è, visto che con l'amministrazione uscente riconfermata, l'attività amministrativa sta proseguendo senza interruzioni. La nuova giunta, con tutta probabilità, sarà varata all'inizio della prossima settimana. Anche se non lo ammetterebbero mai, tutti e 11 consiglieri di maggioranza sono con il fiato sospeso. Qualche sorpresa potrebbe sempre esserci. E per la prima volta in assoluto il Molise ospiterà l'Assemblea Internazionale della Federazione Italiana Cuochi. Il 22 e il 23 maggio prossimo a Castelpetroso, nella splendida location della Fonte della Store, la Federazione Italiana Cuochi si riunirà in assemblea. All'evento parteciperanno centinaia di delegati dall'Italia e dall'estero. Presente il team della Nazionale Italiana Cuochi, quindi un evento storico fortemente evoluto ed organizzato nei particolari dall'Unione Cuochi Regione Molise. Costituito a Isernia il comitato della società Dante Alighieri, l'obiettivo promuovere e diffondere la lingua italiana. Sentiamo ancora Antonio Leone. Torna Isernia la società Dante Alighieri Sodalizio che ha l'obiettivo di promuovere la lingua e la cultura italiana. Il comitato Pentro è stato presentato ufficialmente presso la sede del polo scolastico paritario San Pietro Celestino, un'opportunità di crescita anche per gli stranieri che vogliono vedersi certificata la conoscenza dell'italiano come seconda lingua. Presente all'incontro anche Alessandro Masi, il segretario generale, oltre a rimarcare l'importanza del progetto, ai nostri microfoni ha fatto il punto sul presente, sulle prospettive future della lingua italiana. L'avvenimento direi che è quasi storico, nel senso che la Dante riapre a Isernia dopo credo più di 30 anni che aveva le sue attività proprio in città. Oggi noi in Molise operiamo a Isernia e a Campobasso e questo mi fa molto piacere che almeno la regione abbia ripreso questa parte fondamentale di attività culturale che ha una ricaduta sicuramente positiva sul territorio, nel senso che un presidio didattico, culturale e in terra molisana è fondamentale. Io ho insegnato qualche anno all'Università del Molise e a Campobasso e so quanto questa terra ha bisogno di essere in qualche maniera stimolata culturalmente. Dall'altra credo che la scuola Isernia possa aprire anche la città, una internazionalizzazione. La lingua italiana lo dice il Presidente della Repubblica Mattarella, lo abbiamo celebrato nel 21, col settecentesimo anniversario della morte di Dante. Lo dicono le statistiche internazionali, si dice che appunto l'italiano sia la quarta lingua più studiata al mondo per motivi culturali ovviamente, non parlo di lingue veicolari come l'inglese e lo spagnolo. Con l'italiano viaggia tutto quello che, non dovrei dirlo l'inglese ma ormai è un modo di dire, il made in Italy, cioè la produzione italiana e il marchio italiano, quello che con la lingua appunto nel mondo esporta, quello che tutti quanti chiamano ital simpatia, il nostro Presidente Riccardi la chiama ital simpatia, c'è chi lo chiama vivere all'italiana, sa di fatto comunque moda, cucina, arte, architettura e design sono i punti fondamentali della nostra strategia di diffusione del nostro patrimonio nel mondo. Mario Caruso, Presidente del Comitato Isernino, ha sottolineato le opportunità che si creeranno grazie a quest'ambizioso progetto. I obiettivi sono tanti, abbiamo già iniziato a lavorare su diversi progetti, uno scambio anche, l'abbiamo siglato la scorsa settimana con il Comune di Gozzo dell'Isola di Malta, per uno scambio interculturale, quindi sulla lingua e cultura italiana e leggermente lo collegheremo anche a quelle che sono tutte le peculiarità del nostro territorio, anche da punto di vista di nuovo astronome. La professoressa Francesca Faralli invece ha illustrato le iniziative che da qui a breve prenderanno corpo. L'incontro si è concluso con la narrazione dello storico dell'arte Franco Valente sul patrimonio storico-artistico del territorio molisano e con una performance del maestro Mario Farina, che ha aglietato i presenti con il monologo Celestino V da Ignazio Silone. Si svolgerà Isernia domenica 21 maggio a partire dalle ore 17 presso l'Auditorium Unità d'Italia, la non edizione della giornata regionale dello sport. Durante la cerimonia saranno attribuiti riconoscimenti alle federazioni, associazioni enti che promuovono pratiche sportive sul territorio regionale e premi agli atleti che hanno ottenuto brillanti risultati sportivi nell'anno 2022. Nuovo articolo intervista al famoso attore Consuelo, stazionista del Campobasso 19-19 per la famosa rivista americana Forbes. Intanto il Campobasso Football Club comunica che è stata sottoscritta la convenzione con il comune di Campobasso relativa all'affidamento dello stadio Selvapiana per i prossimi nove anni. Sentiamo. Settimane importanti quelle del Campobasso 19-19 che dopo aver conquistato la Serie D ha iniziato a progettare il futuro. Se in America l'attore Consuelos, spinto da Rizzetta, continua a far conoscere e crescere il brand di ieri nuovo articolo intervista proprio al famoso attore americano su Forbes dopo la nuova denominazione in Campobasso Football Club e il nuovo logo presentato all'inizio settimana. Lo stadio Romagnoli è fra le priorità del club Rosso Blu. Il Campobasso Football Club comunica che è stata sottoscritta con piena e soddisfacente intesa la convenzione con il comune di Campobasso relativa all'affidamento dello stadio Selvapiana. Lo stesso stadio sarà dunque a pieno utilizzo del club per i prossimi nove anni con l'eventuale opzione di un rinnovo alla scadenza dei termini indicati, nonché la possibilità di una futura compravendita dell'intero impianto. Ma non solo, nell'ambito della convenzione stipulata è stata inoltre raggiunta un'intesa di massima con il comune in merito ad un protocollo di interventi specifici per rendere la struttura ancora più funzionale ed adeguata. Già a partire dalle prossime settimane sarà aperto un tavolo tecnico che porterà alla definizione condivisa del piano programmatico di interventi e accordi futuri sull'utilizzo dell'impianto. Lo stadio, ricordiamolo, è già soggetto da due anni da lavori di rifacimento che hanno riguardato tutti i settori. I primi importanti cambiamenti hanno riguardato la tribuna a Monforte, completamente rimodernata e dotata di seggiolini in plastica rosso-blu. La capienza dello stadio arriverà fino a 14.000 posti. Da dieci anni, dalla tragica scomparsa di Francesco Macari, il bravissimo e giovane trombettista di Petoranello del Morise, la famiglia torna a dedicargli un memorial dopo le interruzioni dovute al Covid per ricordarlo assieme a compaesani e a quanti l'apprezzavano. L'evento, nel pomeriggio di oggi a Petoranello, nel decennale della scomparsa del giovane, a illustrarne lo svolgimento la madre appunto di Francesco. E vi ricordiamo che questa sera va in onda alle ore 21, l'ultima puntata del programma live di TV Molise, scusate, sportivamente. Approfondimento sportivo curato dal nostro collega Michele Visco, che tratterà tutte le tematiche sportive legate al mondo dello sport molisano e non solo. In studio con il conduttore si alterneranno diversi ospiti, soprattutto atleti, che racconteranno le loro esperienze e le loro vittorie sul campo. Vi invitiamo quindi tutti a seguirci sul canale 110 del Digitale Terrestre, sulla pagina Facebook TV Molise oppure in streaming sul sito www.tvmolise.it. E siamo arrivati alle nostre previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino Previsioni per oggi venerdì 19 maggio. È attesa una breve tregua con ampi spazi soleggiati che interesseranno tutta la regione. Più fresco sui settori orientali a causa di un richiamo di aria più fresca dai Balcani. Venti dai quadranti settentrionali, mare mosso. Temperature Campobasso minima 10 massima 17, Isernia minima 12 massima 21, Termoli minima 13 massima 18, Venafro minima 14 massima 23. Previsioni per domani sabato 20 maggio. È atteso l'arrivo di una nuova perturbazione che già dalla mattinata porterà le prime precipitazioni anche intense sui settori orientali. Venti dai quadranti orientali, mare poco mosso. Temperature Campobasso minima 11 massima 13, Isernia minima 13 massima 17, Termoli minima 15 massima 17, Venafro minima 14 massima 20. E con il meteo è davvero tutto. La prossima edizione vi attende questa sera alle 19.30. Grazie per l'attenzione e arrivederci.